Poi dopo lei mi ha aiutato con tutti i miei figli, l'ho cercata e lei ha fatto nascere tutti e quattro i miei figli. Tutti parti naturali? Tutti parti naturali, tutti assolutamente naturali e tutti allattati. Anzi, le due bambine più piccole, Cristella e Romina, le ho partorite proprio a casa nel mio letto con la mia musica, tutto come in via col vento. Mamma mia, come nei vecchi film. Come nei vecchi film. E Albano è svenuto come assistito ai parti. Albano ha assistito al parto, agli ultimi due in casa e con Romina mi ricordo che gli diedi la telecamera in mano e gli ho detto riprendi, mi raccomando, perché voglio un ricordo di questo. Ma lui non riusciva, gli tremava tanto la mano che ho detto dammi qua e ho ripreso io. Cioè tu hai partorito e hai fatto anche la regista del tuo parto? Sì, ho ripreso io il mio parto. No, ma tu sei un'eroina! E lei guardate queste immagini? Sì, sì, sì. Guarda, eccoli, non mi sembrava vero, quattro figli, mi sembravano tanti, tutti raggruppati sul mio letto. E dormivi con loro, con tutti e quattro nel lettone? Beh, insomma, proprio tutti nel lettone no, però la piccola Romina ce l'avevo lì accanto e loro molto molto vicini, sempre complici, sempre pronti ad aiutarmi. Grazie. 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 Grazie.